un saluto carissima a tutti voi siamo ormai nell'anno nuovo siamo dalla ditta romano baroncelli di quadrata in provincia di pistoia e siamo a parlarvi di tappeti tappeti autentici con un certificato di autenticità qui non siamo ai grandi magazzini dove si vende il tappeto da 100 200 euro qui si vende roba molto più importante e questo vorrei puntualizzarlo perché coloro che magari fanno un arredamento estremamente dettagliato rifinito nei minimi particolari poi magari con un tappeto sciupate tutto allora è meglio un buon pavimento che un tappetaccio sbagliato ecco questo è un consiglio che voglio dare dopo una vita di lavoro ed esperienza io sono a presentare un patchwork è un 170 x 240 viene dato a 790 euro sono pezzi di tappeti antichi tutti riuniti è un tappeto molto moderno ovviamente e dove c'è anche una fodera che lo sostiene alla pavimentazione fate vedere il rovescio certamente anche qua non è che fanno tutti i colori e tutte le misure ci sono delle misure ben precise per esempio il più grande è 170 x 240 e da baroncelli si compra a 790 poi vorrei andare avanti perché dopo diversi giorni di telefonate volete lo busson lo busson eccetto non li trovate in giro perché non c'è più produzione allora qui da baroncelli ci sono io faccio vedere la misura di 160 x 90 ne faccio vedere due per farvi capire anche che non sono tutti o col blu e l'azzurro tutti con il rosso qui c'è la scelta e vengono data a 390 euro a pezzo questi dove si mettano si mettono nei bagni nelle camere dal letto come fondoletto come scendiletto nell'anticamera poi c'è una rete che li fa aderire in maniera perfetta alla pavimentazione per cui non scivolano neanche comunque abbiamo anche le misure molto grandi se siete interessati allora abbiamo anche delle gallerie chiamiamole gallerie per esempio questa alla mia sinistra è lunga 2 metri 35 più le frange è larga 80 e viene data a 490 euro magari se un corridoio è particolarmente lungo ci sarà necessità di una galleria una guida più lunga e qui ci sono chi non l'ha molto lungo gli va bene questo paga solo 490 l'altra che ce n'è anche altre di altri colori una zigre è lunga 2 metri e larga 80 viene data sempre a 490 vedete varie qualità possono costare uguale e in misure però diverse ecco questo io voglio solo darvi delle idee perché su tutto ciò che facciamo vedere poi c'è l'assortimento dei colori dei disegni e delle misure questo per esempio è un pezzo unico questo è un pezzo unico sono quei tappeti che fanno parte di una ricerca costante di baroncelli sono sultanii particolarissimi no anzi scusate è un asla questo questo è un asla tinte vegetali è lungo 2,40 e largo 1,82 metri viene dato scontatissimo a 1600 euro qualcuno dirà oddio quant'è 1600 euro signori è un tappeto fatto a mano nodo per nodo ma qui si spende delle cifre da capogino in sciocchezze se noi ci riflettiamo delle volte se è tenuto bene un tappeto come questo in una famiglia fra 50 anni è uguale cioè bisogna anche un pochino riflettere se avete dei divani rosa e verde acqua tabacco questi sono tappeti che si abbinano bene viene fuori dei risultati eccezionali poi che c'entra ci sono anche da meno di quello lì tutte le settimane ve ne do una dimostrazione però bisogna anche un pochino ragionarci volete un tappeto finissimo cioè per voi per fare un regalo a un figlio in una camerata a letto come fondoletto in un corridoio di un bell'ambiente tutto ristrutturato come ce ne sono tanti oggi abbiamo dei tablizzi ma non sono i 50 raggi questi sono i veri 60 raggi e lana corche e seta la misura è circa un metro e 65 di lunghezza e la larghezza varia da un metro a un metro e 10 vengono dati a 1.450 a pezzo finché ne abbiamo poi chiaramente poi ci saranno prezzi diversi allora questo è un tappeto che ha un colore particolare di segni insolito e sarebbe il sultanì è 240 per 175 qui ci sta bene il divano a tre posti con la penisola oppure il divano a tre posti più due posti le due poltrone insomma questo va bene su pavimenti di grass porcellanato su il legno su il cotto sono colori non facili da trovare sono se li vedete ambientati ci date ragione il prezzo di questo oggi 1.450 poi voglio finire siccome si parla di tappeti moderni bisogna anche sapere che cosa significa tappeto moderno questi sono tappeti moderni questa roba ricercatissima è roba gli architetti vengono da noi a cercare questi pezzi particolari questo è un vi un revive vintage di 2.80 per 180 di larghezza e non lo diamo a 1780 euro naturalmente non c'è grossi quantitativi la produzione ridotta però da noi trovate anche quello signori vi ricordo che siamo aperti tutti i giorni o mai con l'orario nuovo chiusura il lunedì apertura anche la domenica pomeriggio come sempre vi ringrazio e vi aspetto